carissimi fratelli sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno meditiamo stamattina il vangelo di luca capitolo 17 versetti 20 a 25 il regno di dio non viene in modo ad attirare l'attenzione della gente e nessuno vi dirà che eccolo qua o eccolo lì perché il regno sta in mezzo dice gesù in questo brano questo brano ci racconta due strategie la strategia dell'uomo e del diavolo che pensa a un messianismo trionfante un messianismo glorificante un messianismo nel senso politico un leader politico che viene come per spiazzare per prendere il potere e poi abbiamo la strategia di dio che è proprio umile semplice dolce nascosta nessuno sa gesù conferma che il re è già in mezzo a noi dunque non c'è da cercare dove sta il regno di dio e qui potremmo ricordarci anche del dubbio che i giudei hanno fino adesso mettendo in dubbio la l'identità di gesù gesù non è figlio di dio gesù non è il messia perché è venuto in modo silenzioso in modo nascosto è nato da un grebo di una donna qual è questo dio che può nascere dal grebo di una donna allora per i giudei non è possibile anche noi oggi ecco gesù è in mezzo a noi gesù è il regno di dio e lui proprio il regno di dio non c'è da cercarlo dappertutto come alcuni di noi che c'è che pensano vedere dio attraverso i miracoli ecco pure che cercano sempre i segni per sentire la presenza di dio in mezzo a loro e invece dio è sempre presente in mezzo a noi anche quando andiamo a messa tanti di noi comunicano al corpo e anche al sangue di cristo ma non riconoscono sinceramente veramente con l'occhio della fede che proprio è cristo che è presente in mezzo a noi alcuni anche non vedono i sacerdoti come la figura di cristo perché quando lui celebra la messa è cristo che celebra è lui il presidente della celebrazione la parola di dio e anche la presenza del signore e tanti di noi cercano la presenza di dio tramite i segni tramite i miracoli tramite i prodigi ma in realtà cristo è già nel cuore nostro nel momento cui siamo nati lui è dentro di noi tocca a noi di cercarlo e provarlo visto che il nostro cuore è talmente pieno di tante e mille cose oggi abbiamo paura del silenzio ci vuole il rumore chi sta a casa da solo che fa accendere la televisione aumentando il volume chi sta in compagnia preferisce prendere il cellulare invece di dialogare con gli altri abbiamo paura del silenzio allora come pensiamo conoscere e riconoscere e sentire cristo in mezzo a noi quando non riusciamo a fare silenzio in mezzo a noi le cose di dio avvengono nel silenzio nell'umiltà nella semplicità qualche volta una sorpresa quante persone oggi possono testimoniare avevano chiesto qualcosa signore avevano dimenticato ma visto che i tempi di dio non sono i nostri tempi alla fine la cosa si realizza mano mano e piano piano il regno di dio cresce è in mezzo a noi evitiamo di seguire quelli che ci raccontano che è la fine del mondo quelli che ci raccontano che ecco sarà così sarà cosa no evitiamo che ci raccontano che ecco venite farò dei miracoli venite io farò questo evitiamo di seguire queste persone nessuno ha il diritto di arrogarsi la presenza di dio o la presenza del regno di dio nessuno tutto nella semplicità nelle mani del signore e perciò alla fine del vangelo gesù ha detto prima di tutto il figlio dell'uomo deve morire come per dire ecco il piano il piano di dio e il piano dell'umiltà della semplicità la via della croce è quella che dimostrerà la grandezza di dio la pietra scartata dai costruttori diventerà pietra d'angolo allora carissimi miei inutile cercare dio non so dove dio è dentro di noi facciamo un po di silenzio cerchiamo di meditare trovare un tempo di dialogare con il nostro dio vedremo che lo scopriremo lo vedremo lo conosceremo perché lui è in mezzo a noi non serve andare non so dove per per trovare il signore è già dentro di te anche quelli che fanno i pellegrinaggi se già non ha una base di fede tornerai dal pellegrinaggio come sei andato allora che lo spinto veramente ti aiuti a capire che dio agisce nel silenzio nella semplicità anche noi cerchiamo di agire verso i nostri fratelli nella semplicità nell'umiltà senza suonare delle delle campanelle vi auguro una buona e stata giornata che dio vi benedica sempre